Il barboncino in miniatura, o il barboncino nano, è una razza di cani decorativi usati principalmente come compagni. Possedendo un carattere allegro e docile, un'intelligenza eccezionale, questi cani sono diventati animali domestici in molti paesi. Buone sentinelle, sensibili, non chiacchiere. Non aggressivo, ma diffidente nei confronti degli estranei. Suscettibile alle malattie degli occhi, del cuore e dell'apparato uditivo. Punti salienti e fatti interessanti. Il barboncino è noto per la sua intelligenza superiore e l'eccezionale capacità di apprendimento. Il barboncino ha ottime capacità natatorie, la lana si adatta all'acqua, e se lasciata crescere naturalmente diventerà dura. Grover Cleveland possedeva un barboncino, anche se alcuni rapporti dicono che era un pechinese. Storia della razza. Il barboncino è il cane nazionale della Francia, e i francesi sono molto affezionati ai loro barboncini. Tuttavia, non esiste una razza come il barboncino francese. In Francia, i barboncini sono chiamati caniscia, o cane d'anatra. Sebbene il barboncino sia associato alla Francia, la razza è nata come cacciatrice di anatre in Germania, dove la parola barboncino significa spruzzi d'acqua. Il barboncino standard ha iniziato il suo sviluppo come cane da caccia d'acqua oltre 400 anni fa. Il barboncino era, e rimane un ottimo cane da riporto con pelo riccio che lo protegge dalle intemperie, ottime capacità natatorie e spiccata intelligenza. Le varietà standard e in miniatura, sono classificate come cani non sportivi e sono idonee per i testa KC. Il brillante mantello da barboncino da esposizione serviva a scopi pratici nei primi anni della razza. I cacciatori volevano, che i loro cani potessero muoversi liberamente nell'acqua, ma volevano anche proteggere dal freddo le aree vitali dell'anatomia. Si sono rasati le gambe, il collo e la coda, ma hanno lasciato seni, cosce e articolazioni delle gambe pelosi. I ciuffi arrotondati sulle gambe, sulle cosce e sulla punta della coda sono chiamati pom-pom. Le tante eccellenze del barboncino gli hanno permesso di passare da lago al seno del lusso. Gli eleganti barboncini standard e nani trovarono accettazione tra la nobiltà di Francia, e, in definitiva, di tutta Europa. L'aspetto appariscente e la capacità di addestrare la razza lo hanno reso un passatempo naturale, e i barboncini sono stati a lungo associati alle tradizioni del circo europeo. Il suo eccellente olfatto ha portato il barboncino a un lavoro extra come cercatore di tartufi. Aspetto? I barboncini sono disponibili in tre dimensioni. Gli standard devono essere superiori a 38 cm alla scapola, miniature non più di 38 cm nella scapola, versioni di quella non più di 25 cm nella scapola. Tutte e tre le varietà hanno lo stesso fisico e proporzioni. Dimentica quei vecchi stereotipi dei barboncini come cani effeminati. I barboncini sono cani energici, atletici e incredibilmente intelligenti di straordinaria versatilità. Il barboncino standard, con le sue grandi dimensioni e forza, è il miglior atleta a tutto tondo della famiglia, ma in assoluto tutti i barboncini possono essere addestrati con grande successo. Manutenzione e cura. Il barboncino in miniatura, andrà bene con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. A meno che tu non abbia intenzione di mantenere il tuo barboncino tagliato corto, dovrai imparare a spazzolarlo ogni giorno per evitare che il pelo si aggrovigli. La maggior parte dei proprietari di animali domestici preferisce tenere il barboncino con un taglio di capelli più corto. Alcuni proprietari imparano a governare e tagliare da soli il loro cane, mentre altri scelgono di portare il cane da un toilettatore professionista ogni 4-6 settimane per il bagno, il taglio e la tosatura. Questa razza è una buona scelta per chi soffre di allergie. I barboncini di tutte le taglie sono cani molto attivi che hanno bisogno di esercitare quotidianamente per mantenere un alto livello di energia. I barboncini amano fare tutti i tipi di attività e si divertono a fare qualcosa. Il nuoto è un ottimo esercizio per loro e la maggior parte dei barboncini ama tuffarsi in acqua. Allevati come cani da caccia, cercano di cercare, quindi lanciare loro giocattoli, bastoni o palle eserciteranno la loro mente e il loro corpo. Preferiscono anche correre con il loro padrone. I barboncini sono estremamente intelligenti e facili da addestrare. Sono agili e aggraziati, amano una varietà di sport canini, tra cui l'agilità, l'obbedienza e il monitoraggio, ed eccellono in essi. Sono ottimi waterretrievere e partecipano anche a prove di snorkeling. I barboncini sono molto orientati all'uomo, e se il tuo addestramento è divertente e positivo, porteranno rapidamente piacere sia al cane che al proprietario. Salute. La maggior parte dei barboncini vive una vita lunga, felice e sana grazie agli sforzi di allevatori dedicati e responsabili che controllano regolarmente tutti i riproduttori per problemi di salute come displasia dell'anca, malattie degli occhi, epilesia, adenite sebacea, malattia di von Willebrand e disturbi immunitari. Due problemi ortopedici, leg calvetperte se rotula l'usata, sono più probabili nei barboncini toy enani rispetto ai barboncini standard. La varietà standard è più a rischio di gonfiore e adenite sebacea. Prezzo e come acquistare correttamente. La scelta dei cuccioli di barboncino toy oggi è piuttosto ampia, dal momento che molti allevatori privati e canili sono impegnati nell'allevamento della razza. Durante una visita al canile, non dovresti affrettarti a comprare subito il primo cucciolo che ti piace, perché sarà abbastanza utile osservare attentamente il suo comportamento. I cuccioli di barboncino toy sani dovrebbero essere sempre giocosi, curiosi e attivi. Il cucciolo con i tratti più pronunciati sarà il migliore. Va anche tenuto presente che per temperamento i maschi sono più mobili e le femmine sono più calme. Gli occhi del cucciolo dovrebbero essere chiari e puliti, la pancia dovrebbe essere morbida, senza arrossamenti ed eruzioni cutanee. È anche importante guardare sotto la coda, se tutto è pulito e asciutto lì, il cucciolo è abbastanza sano, in caso contrario, ha evidenti problemi di digestione. È meglio comprare un cucciolo di barboncino giocattolo all'età di due mesi o più. Se è prevista la partecipazione attiva del futuro animale domestico alle mostre, è ottimale acquistare un tale cucciolo all'età di quattro mesi. Al momento dell'acquisto di un cucciolo, un allevamento o un allevatore rispettabile deve rilasciare al proprietario un certificato di vaccinazione e una carta del cucciolo, che alla fine cambia in pedigree. Una curiosità. Un cucciolo di barboncino toy può costare diversamente, e il suo costo può dipendere dal pedigree, dalla taglia, dall'età, dal colore, dall'autorità dell'allevamento. I cuccioli di classe spettacolo con una chiara prospettiva di spettacolo, sono venduti da allevatori e canili per 750 dollari 1300. I bambini da riproduzione per la riproduzione, hanno un prezzo leggermente inferiore a 500 dollari 700. Il costo dei cuccioli di classe pet, così come dei cuccioli con evidenti deviazioni dallo standard, parte da 400 dollari. I cuccioli senza pedigree, sono in vendita a 100 dollari 200. Il barboncino giocattolo è in qualche modo simile a un peluche. Questo cane minuto, aggraziato e bonario sembra molto divertente e commovente grazie al suo pelo riccio. Tuttavia, sotto un aspetto così carino, c'è un normale cuore di cane, che richiede sia l'attenzione e l'amore del proprietario, sia l'addestramento e l'educazione. Linea di fondo. Il barboncino è una razza di cane d'acqua. La razza è suddivisa in quattro varietà in base alla taglia. Il barboncino standard, il barboncino medio, il barboncino nano e il barboncino toy, anche se il barboncino medio non è generalmente riconosciuto. Si dice più comunemente che il barboncino sia originario della Germania, sebbene si affermi anche che provenga dalla Francia. Il barboncino standard era originariamente utilizzato dai cacciatori di uccelli selvatici per estrarre la selvaggina dall'acqua. Le varietà più piccole della razza, sono state allevate dall'originale in Francia, dove un tempo erano comunemente usate come artisti circensi, ma sono diventate popolari cani da compagnia.